Il consigliere comunale Mario Pesca ha chiesto al sindaco e all'intera amministrazione comunale di voler denominare una strada, una piazza o un altro luogo pubblico della città di Agropoli a Gianni Agnelli. Evidenzia il consigliere avvocato Pesca che tale richiesta trova giustificazione nella vita dell'avvocato Gianni all'anagrafe Giovanni Agnelli, che è stato il principale azionista e amministratore della Fiat, nonché senatore a vita della Repubblica Italiana, morto il 24 gennaio del 2003 e di cui il 12 marzo scorso è ricorso il centenario della nascita. Senza dubbio l'avvocato Gianni Agnelli è stato il rappresentante di spicco dell'economia italiana nel mondo nella seconda parte del XX secolo. A giustificazione ulteriormente di tale domanda il consigliere Pesca evidenzia che, per quanto riguarda la nostra città, l'avvocato Gianni Agnelli faceva spesso approdo con il suo yacht ad Agropoli. Iniziò questa frequentazione per rendere visita al suo precettore, il professor Franco Antonicelli, che è stato un saggista, poeta e antifascista torinese, uno dei maggiori esponenti dell'intellettualità piemontese di quel tempo. Franco Antonicelli venne inviato negli anni 30 in esilio proprio ad Agropoli, città la nostra che gli continuò a frequentare per il resto della sua vita. A ricordare l'origine delle frequentazioni con la nostra città fu lo stesso Gianni Agnelli quando nel 1990 attraccò con la sua nave nel nostro porto e disse, ho sentito parlare di questi posti grazie ai racconti che mi faceva Franco Antonicelli, il mio istitutore. Credo quindi, conclude Pesca, che la città di Agropoli, nel compimento del centesimo anno dalla nascita dell'avvocato Agnelli debba ricordare questo illustre suo amico, dedicandogli una strada, una piazza, un luogo, possibilmente dove lo stesso si è incontrato con i nostri concittadini.